Il bonus 110% tra burocrazia e crisi rischia di essere un flop, voi ci avete fatto un pensierino o non ci avete proprio provato? Ma noi avremmo anche provato, non è stato possibile per una serie di motivi ma sinceramente dire che è un flop mi pare troppo, direi invece che una buona idea è che ha rilanciato il settore dell'edilizia. Ma secondo me non rischia di essere un flop, io non posseggo nessun appartamento però qualora avessi avuto la possibilità sicuramente io ne avrei approfittato, anzi in giro proprio oggi stavo dicendo che sto vedendo tante facciate che vengono rimodernate, io trovo che sia un progetto che sta andando bene a mio parere esterno. Guarda proprio in questa settimana sto valutando di acquistare una casa e approfittarne del 110, quindi sì. È valido? Sì, secondo me sì è valido, perché sicuramente c'è della burocrazia dietro, bisogna starsi dietro, bisogna avere del tempo e secondo me è la cosa migliore è affidarsi delle persone che li sanno gestire. Io ci ho fatto un pensierino perché giusto ad ottobre ho acquistato casa, ho già traslocato però è da prima di ottobre che ci sto facendo un pensierino, non sono ancora riuscita a portare a termine la pratica e quindi ci sto provando ma al momento non ho ancora nessuna novità. Grazie 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 Grazie